Ciao tesori, buongiorno e benvenuti a un nuovo video Allora, oggi sono finalmente qui con la seconda puntata della posta dei tesori Sono contentissima di essere qui perché in realtà non sapevo se avrei poi registrato questa puntata, seconda puntata oppure no Per... siete un po' storti Per il semplice fatto che non sapevo se vi sarebbe piaciuta appunto di nuovo la serie della posta dei tesori Che era una serie che appunto avevo prima ma che poi avevo abbandonato per non so quale motivo Invece vi è piaciuta, siete state tanto carine e mi sono arrivate tantissime mail Ormai penso che un pochino il format si sia capito ma comunque lo ripeto per chi è nuova In ogni caso benvenuta tesorina nuova, benvenuta nella nostra grande famiglia In pratica mi potete mandare una mail alla posta dei tesori chiocciolalibero.it Mi potete mandare una mail nella quale vi parlate di un qualche vostro problema Che sia d'amore, di amicizia sessuale, gravidanza o quel che sia E io vi darò il mio parere personale, il mio consiglio personale in quanto amica Ovviamente non mi voglio sostituire da un dottore, un medico, un psicologo o quel che sia Semplicemente un mio parere da amica E ovviamente le tesorine e le altre tesorine vi daranno una mano qua sotto nei commenti Scrivendovi che cosa ne pensano loro Quindi iniziamo subito Cara Chiara, non so se leggerai mai questo messaggio Ma volevo dirti che non sei come le altre Ci sono persone che fanno tutto ciò per soldi o altro, tu sei diversa Ma amore Ti seguo da più di due anni ormai e il tuo primo video che ho visto è stato Sti... Sì, è un mio video dove ero in costume da bagno E ci tengo molto a quel video, l'ho fatto un bel po' di tempo fa Mi ero uscito nella home e pensavo fossi una delle solite volgari ignoranti Ma sentendo le tue parole qualcosa è cambiato Sai, io non ho per niente a tua stima Allora mi sono guardata allo specchio e ho pensato, avrà anche ragione Allora ho aperto il tuo canale e ho iniziato a vedere ogni tuo singolo video E non posso crederci ancora Wow, sei diventata la meglio Sei una guida Purtroppo ora devo andare ma se potessi ti lascerei mille altre parole perché te le meriti tutte Grazie di tutto ciò che fai per noi tesori Sei semplicemente fantastica Amore, non mi ha chiesto un aiuto Che patatina Amore mio, un bacione grande Oddio ci sono rimasta No, questa mail è solo per i consigli Non me lo aspettavo che arrivasse un messaggino così carino Che dolce Grazie tesoro Comunque ecco anche se non c'è un consiglio Io mi sento di dartelo comunque per quanto riguarda l'autostima L'autostima è un qualcosa che secondo me È un qualcosa che si può conquistare con il tempo e con dedizione e calma E l'autostima secondo me è un qualcosa che ti viene da dentro dopo un lungo percorso Comunque ti mando un bacione, ti ringrazio di tutto Guarda, non me lo aspettavo, mi hai colto un po' l'ho sprovvista Grazie Ciao Chiara, sono una tua grandissima fan Ho 14 anni, ho origini americane e olandesi Wow E abito ad Ostia Ti scrivo poiché ho un dubbio riguardante la mia sessualità Ok Ti racconto Faccio danza classica da quando avevo 4 anni E quest'anno è entrata una nuova ragazza nel mio gruppo Si chiama Alexia È cubana Con Alexia ho fatto amicizia sin da subito Il suo primo giorno ci siamo incontrate per caso Io stavo andando verso lo spogliatoio e l'ho vista Mi ha colpito subito, capelli ricci, occhi sul verde, bel corpo e un sorriso da capogiro Quel giorno ho visto che era un po' spesata Le ho chiesto se avesse bisogno di aiuto E da lì abbiamo iniziato a parlare per conoscerci meglio Dopo due mesi che ci conosciamo barra frequentiamo Sto capendo che per me lei non è solo una semplice amica Nemmeno una migliore amica Insomma, sento che stia cambiando qualcosa Ogni volta che la vedo sento qualcosa che prima non sentivo Non so nemmeno descrivere cosa sia So solo che è una sensazione bellissima Forse sto diventando bisex o lesbica Sono molto confusa Ho bisogno del tuo aiuto Ti voglio bene Un bacio E non leggo il tuo nome Casomai, insomma Non vuoi Un bacione a te tesoro Allora Io mi sento di consigliarti questo Poi ovviamente tesoro Voi consigliate quello che vi sentite qua sotto nei commenti Ormai siamo una grande squadra Dato la tua giovanissima età Dato che hai 14 anni Secondo me hai tutto il tempo del mondo Per capire davvero che cosa ti possa piacere Oppure no A 14 anni capita magari di essere leggermente confusi Capita di non sapere bene ciò che si vuole Oppure lo si può sapere benissimo Io personalmente ho sempre saputo di essere bisessuale Sempre Sempre saputo È una cosa che ho semplicemente sempre avuto da dentro Da fin da piccola E ci ho vissuto sempre molto bene Questo perché io onestamente non mi sono mai fatta E ne imposta il problema del Mi deve piacere per forza questo O mi devo piacere per forza quello E se mi piace questo Oh mio dio Che cosa succede? Ecco tutte queste domande Io non me le sono mai fatte Perché sostanzialmente mi sono vissuta i momenti E basta Se a te questa persona piace davvero Cerca di capire in che modo ti piace Cerca di capire se per lei provi una profonda stima Perché magari vorresti avere il suo corpo O magari vorresti essere proprio come lei Perché ci sa che una donna può ammirare un'altra donna È una cosa molto bella Oppure vedi se appunto provi dei sentimenti Perché sai A me non piacciono molto le categorie Io mi dico di essere bisessuale Ma in realtà Fondamentalmente mi potrei innamorare Di qualsiasi persona Nel senso A me colpisce il carattere Il mio fidanzato Io lo amo Perché è lui Ma non perché lui è maschio Cioè per me poteva essere una femmina come altro Non mi sarebbe interessato per niente Io sono innamorata del suo carattere Sono innamorata di come parliamo Di cosa siamo insieme Di cosa sono io insieme a lui Non del resto Non me ne frega niente Quindi Secondo me è importante che tu Piano piano capisca Quello che sta Diciamo Succedendo intorno a te Secondo me la cosa migliore È che tu ti viva in totale serenità Questa nuova amicizia E questa nuova conoscenza Hai tutto il tempo Per capire la tua sessualità Quindi prenditi tutto il tempo Quello che ti dico Sinceramente è Vivitela Vivitela e basta Anche perché Rientrare in una categoria Non è un Non ce l'ha prescritto il dottore Nel senso Ah ti piace questo Perfetto Ti piace questo Ti piace quest'altro Ti piace pure quest'altro Oppure ti piace solo questo E allora ti piace solo questo Vivitela con leggerezza Perché secondo me Il fatto proprio di Sapete Quindi dover per forza dire Che si è appunto Bisessuali Gay Eccetera eccetera Come se fossi un qualcosa Di straordinariamente Fuori dal comune Come se dovessimo uscire Dallo scoperto Secondo me Non è che un etero Appena si presenta Dice ciao piacere Sono etero E come io Non è che faccio Ciao piacere Sono bisex È una cosa nostra Non importa davvero Chi ci piace oppure no Ma saranno fatti i nostri No? Cerca di capire Piano piano Con calma Davvero che cosa Magari ti piace O non ti piace Fai le tue esperienze E vedrai che piano pianino Avrai la tua risposta Secondo me Prenditi tutto il tuo tempo Hai 14 anni E tutta la vita davanti Quindi Non fartene un Non fartene un problema Anche perché Onestamente Non è un problema Non importa se ti piacciono Le donne Gli uomini L'amore è amore Ok prossima tesorina Sono stata un minutino Buono a leggere La intro Diciamo Della tua mail Che è davvero molto dolce Sono davvero contenta Che tu abbia deciso Di scrivermi Quindi ti ringrazio tanto E hai detto delle cose Veramente 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 Belle L'unica cosa Che mi manda in confusione Il fatto che Mi ha scritto Che sa che leggerò In forma anonima Ma lei vuole essere Sincera al 100% Almeno con me Quindi mi scriverà I nomi delle persone E delle città Quindi devo cambiarli entrambi Aiuto Sarà problematicissimo Oltretutto È una lettera Immensa Ok mettiamoci sotto E iniziamo Nel 2014 Mi presi una cotta Per un ragazzo Che era il mio miglior amico Non ero corrisposta Così cercai di allontanarmi Giusto Giusto Se non ricambia Giustamente Non devi insistere Quelle stalking Quindi Perfetto Lui però mi scriveva Mi chiamava Sembrava quasi Non volesse che me ne andassi Beh se era il tuo miglior amico Vedo che ti volesse anche lui Molto bene Quindi forse per questo Non voleva staccarsi Mentre cercavo di distaccarmi Il primo aprile Il giorno che odiavo In cui avevo smesso di andare a scuola Perché avevo paura Che le persone mi usassero Come oggetto di burle Mi iscrisse una ragazza Su facebook Intanto mi dispiace tantissimo Che hai lasciato a scuola Per questo motivo E spero che tu abbia chiesto aiuto Per quanto riguarda Queste cose A chi di dovere Comunque Aspettai a rispondere Perché mi ricordava Tremendamente Tizio Un bulletto Che avevo in classe alle medie Poi mi chiese Ti disturbo E di fronte all'educazione Io mi sciolgo proprio Magari penserei Che io sia creduluno in Genua Ma a me piacciono un sacco Le persone gentili Giusto Così non ho resistito E le ho risposto Abbiamo iniziato a parlare Lei mi corteggiava un sacco A parole ovviamente Perché io sono di Una città E lei di un'altra città Ci dividono 78 km Io all'epoca Avevo 17-18 anni E da buona campagnola Non avevo mai preso Un treno in vita mia Non ero molto convinta Per i chilometri Che ci separavano Ma avevo bisogno Di un altro chiodo Su un consiglio Della mia amica Una tipa La quale non faceva Che dire Goditi la vita Butta di provaci Presi coraggio Senza aspettarmi niente Presi un treno E andai a conoscerla Non ho capito però Perché ti ricordava il bullo È una donna Ma ti ricordava un bullo Non ho capito questa cosa Chiara Ti giuro Mi misi le mani nei capelli Era bellissima Degli occhi grandi Bellissimi E mi piaceva tanto Il suo modo di porsi Che aveva Come si muoveva Il modo di parlare Di pensare Di parlarmi Di trattarmi Eravamo sedute Al tavolo di un bar E il primo contatto fisico È stato questo Lei che mi prende la mano E me la bacia Ovviamente Non serve dirti Che sarei potuta svenire Giusto? La storia Da lì è cominciata È durata otto mesi Il 9 novembre Mi ha detto Che non le piacevo più Il giorno seguente Mi svegliai Mi guardai riflessa Allo sportello del microonde E pensai Adesso cosa faccio E mi misi a piangere Ero alta 1,60 m E pesavo 55 kg Mi disse che ero grassa E che non sarebbe mai riuscita Ad andare oltre al bacio Ti dico le precise parole Ma ti prego Non reggerle Così iniziai a fotografare Ogni cosa che mangiavo Mangiavo sempre meno Ed ero sempre più arrabbiata Con me E con il mondo Per un anno Continui a scriverle Ma poi mi arresi Capì che non potevo Obbligare qualcuno A stare con me E mi stancai Di sentirmi rifiutata E umiliata da lei E da me stessa Cominciai ad uscire Conoscere persone E così ho conosciuto Un'altra tipa Che ha fatto volare Le farfalle nel mio stomaco Sono tre anni in mezzo Che stiamo insieme Ma nell'ultimo anno Sogno Quell'altra ragazza Della quale mi ha parlato sopra Quella che l'ha lasciata Dicendo che era grassa E la sogna Insomma La penso spesso Mentre ascolto la musica Con qualsiasi genere O provando anche La musica classica Ma niente da fare Quando le cose Non vanno come vorrei Penso a lei E quando esprimo Un desiderio Devo sforzarmi Per non pensarla Non so cosa fare Non voglio essere Come tutte le ex Di tipa Che l'hanno sempre ricercata Anche mentre stava con me Ho paura di fare una cavolata Di essere rifiutata A volte penso di inviarle Una lettera anonima O una mail anonima Ho pensato di scrivere un libro Con tutte le lettere Che le scrivo E non le invio Nella speranza Che un giorno Le possa capitare Tra le mani E capisca che sono io Poi però penso che L'attuale ragazza Sia la persona giusta per me Io me la merito Una persona così Tu che pensi? Mi sento in un limbo In più venerdì scorso Una mia amica Mi ha chiesto di accompagnarla A quel posto A prendere il cane Da sola aveva paura Dato che il cane Sarebbe arrivato a mezzanotte E io tra un po' Non sbattevo nemmeno le palpebre Cercavo Quella che si sogna Che l'ha abbandonata Dicendole che è grassa Anche negli autobus Che vedevo passare Poi era segnata Di non averla vista Ho pensato Non è destino Ieri però Un'altra mia amica Mi ha invitata Ad andare Un po' so Dopodomani Il centro commerciale Di questa città Dove ho avuto Il primo appuntamento Dove ho avuto Il primo appuntamento Con sempre La tipa famosa Non torno lì Da quel momento E io Niente Volevo confidarmi Sono un po' Super sessiosa Quindi mi faccio I film del tipo Oddio Un segno del destino Eccetera Grazie per avermi letto Allora Ciao tesoro Intanto Ti ringrazio tanto Per avermi iscritto La tua storia È molto intensa E Allora Intanto io non ho ben capito Due cose Non ho capito Prima di tutto In realtà tanto Perché mi hai parlato Del tuo migliore amico Dal quale ti sei allontanato Forse me ne hai parlato Appunto per farmi capire Che la tua prima ragazza Della quale mi parli L'hai utilizzata Da virgolette Come chiodo schiaccia chiodo E fin qua vabbè E poi invece di chiodo schiaccia chiodo Hai trovato Una persona che invece Ti è piaciuta tantissimo Però non capisco perché lei ti ricordava un bullo Questo non l'ho capito Però comunque Andiamo avanti Io vi concentrerei su due cose La tua attuale fidanzata E il fatto che tu Ti ricordi ancora della tua ex Secondo me Per quanto mi riguarda Non dovresti farti tutti questi film Sulla tua ex Mentre sei con la tua attuale ragazza Perché secondo me È una mancanza di rispetto Per la persona con la quale stai Per quanto riguarda la persona con la quale stai Secondo me ovviamente Io ti parlo come un'amica ovviamente Secondo me però Non provi tutto questo grande affetto per lei Perché se no Secondo me Non andavi a pensare all'ex Nel senso Io personalmente Quando chiudo una relazione La chiudo appunto Fine Non me ne frega più niente Poi se dopo Ne riapro un'altra Una nuova A maggior ragione Proprio della precedente relazione Non me ne frega più niente Per me quella persona È morta Non esiste proprio nel mondo E tanti cari saluti A maggior ragione Del fatto che Questa persona Ti abbia lasciato così male Personalmente ritengo Che una persona che ti lascia Con queste brutte parole Sicuramente Non prova un sentimento reale per te Perché non vorresti mai Far soffrire così tanto La persona che davvero ami E soprattutto Io personalmente Non prenderei Come la stai prendendo tu Nel senso Forse il destino Forse sì Forse no La voglio rincontrare O altro Perché intanto che tu Vai a questo centro commerciale Che è proprio nel paese Dove c'è anche questa Tua ex Devi ricordarti Che intanto a casa Hai la tua fidanzata Che ti aspetta E secondo me È una mancanza Di rispetto Pazzesca Verso questa nuova persona Quindi secondo me Dovresti davvero Dare un taglio Alla tua attuale relazione O parlarne Con la tua partner Per farle capire Che comunque Sei un attimo confusa Tu mi hai scritto anche Che pensi Che la tua attuale ragazza Sia la persona giusta per te E che tu ti meriti Una persona di questo tipo Però se la rispetti Secondo me Non dovresti più Fantasticare Sulla tua ex Perché Non si fa Secondo me Se non hai ancora Dimenticato l'ex Non ti dovresti mettere In una relazione seria Con un'altra persona Cioè Perché secondo me È irrispettoso Verso la persona Con la quale stai È brutto Per la persona Con la quale stai Secondo me Se pensi che La tua attuale fidanzata Sia quella giusta E che le vuoi davvero Davvero bene Secondo me Dovresti mettere Un punto grosso Quanto una casa A la tua ex Che ti ha trattata male Che non è stata Assolutamente carina con te Lascia All'indimenticatoio Lascia la casetta sua Fregatene proprio Cerca di andare avanti E basta Io posso anche sentire Tutte le canzoni Che ho sentito Con i miei ex Anche 50 volte Non me ne frega Assolutamente niente Tutte quante Le andrei a ricondurre Con la persona Che so adesso Perché se Penso a una parola d'amore Se penso a qualcosa Di affetto O altro Lo vado a ricondurre Alla persona che amo Adesso Quindi Te lo dico con tutto il cuore Io sarò molto franca In questa serie Ve lo dico Secondo me È una mancanza di rispetto Grande verso la tua Attuale ragazza Quindi mi raccomando Tesoro Metti le idee A posto O decidi Di mettere un punto Alla tua attuale relazione E quindi Tentare di ricontattare La tua ex Tentare di incontrarla E quel che sia Oppure Mantieni la relazione Che hai adesso Ma dimentica Completamente La tua ex In ogni caso Fa quel che ti senti Perché l'amore Comunque all'amore Non si comanda Vedi tu ciò Che ti fa stare meglio Però non ti dimenticare Comunque della persona Che attualmente Hai a fianco Che comunque Non si merita Secondo me Di essere Trattata Come seconda scelta Perché magari La persona che è a fianco Da quello che mi racconti Ti tratta molto bene Quindi magari ci tiene davvero a te Sarebbe un peccato Insomma Ti auguro il meglio Scegli quello che ti fa stare meglio Mi raccomando Un bacione E mi raccomando Dategli tutti i vostri consigli Qua sotto nei commenti Ciao Chiara Ti racconto la mia storia Molto forte E traumatica Sei anni fa Ho conosciuto un ragazzo Ci siamo innamorati Avevo 17 anni Era la storia perfetta Mi sono sentita Come non mai Poi piano piano Il nostro rapporto È diventato ossessivo Non potevo uscire A maniche corte In estate Se dovevo andare al mare Non potevo spogliarmi E mettermi in costume Ma dovevo stare a maniche lunghe Pantarone lunghi E con le scarpe Non si potevano vedere i piedi Non potevo andare a mangiare Una pizza con i miei genitori Non potevo più andare a fare Una vacanza in famiglia con loro La vacanza che aspettavamo ogni anno Se uscivo di casa Dovevo registrare Da quando uscivo A quando rientravo E poi mandargli la registrazione Non potevo stare con i parenti Non potevo salutare i familiari maschi O parlarci Perché geloso E tante di quelle cose Che non hai idea L'anno scorso sono rimasta incinta Ma purtroppo Ho perso il bambino Alle prime settimane Ho iniziato a ingrassare E da quel giorno Ne ho sentite di tutti i colori Sei grassa? Non ti vedi? Da considerare che Invece di 45 kg Ne ero diventata 60 I suoi genitori Mi ridicolizzavano Combattute sul mio fisico Mi sono sentita così male Le cose sembravano però Piano piano migliorare Da premettere che purtroppo Anche io richiedevo da lui Le stesse cose Che lui chiedeva a me Ma semplicemente Perché era diventato Un circolo vizioso E sai Quando succede tutto Piano piano Non ti rendi nemmeno conto Della gravità Ma gli ho chiesto scusa Mi sono resa conto E sono cambiata Perché amore E anche libertà Comunque dicevo Le cose stanno tornando Normali Quando qualche mese fa Ho scoperto Di essere incinta E lui Mi ha chiesto Il test del DNA Perché secondo lui Sono una poco di buono Dice che non è sicuro Di essere il padre Ma ti giuro Io sono stata solo con lui Fisicamente In tutta la mia vita È stata l'ennesima pugnalata Che mi ha portato ad odiarlo Ora sto cercando Piano piano Di riapprezzarmi Di vedere i miei pregi E di volermi bene Lo faccio per me E soprattutto Per il bene del mio piccolino Che amo in un modo indescrivibile Ti voglio bene E spero non mi prenderai per pazza Sono solo una donna Che credeva in un amore Ma esistito Ciao tesoro mio Allora intanto Un bacino a te E al tuo piccolino Allora io Da quello che ho capito Ti sei lasciata Con questa persona Mi auguro Perché hai scritto Mi ha portato ad odiarlo E ora sto cercando Piano piano Di riapprezzarmi Quindi Da quello che ho capito Vi siete lasciati Ok Secondo me È molto positiva Questa cosa Perché il vostro rapporto Appunto Purtroppo Non era Dei più sani Il controllo Nel quale siete arrivati A fare questi gesti Vuol dire che non c'era fiducia Tra di voi Cioè il fatto di Addirittura Dover registrare Quando si usciva di casa Il tragitto Andare al mare E non potersi mettere in costume Sono cose Che superano Ogni limite Sono cose Che assolutamente Sono gravissime Sono impensabili Un amore del genere Non vuol dire Che non c'era amore Ma che non era sano Ed è molto 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 Meglio Che sia finito Qui Io capisco in realtà Perché alla fine Glielo chiedevi anche tu Perché secondo me Quando una persona Ti dice Costantemente Che cosa fai Dove vai Fai questo Fai quello È perché una persona Secondo me Insicura E in automatico Con l'insicurezza Se stiamo parlando Di gelosia malata Non di gelosia Non di gelosia così Quella è normale No gelosia malata Quella a questi livelli Quello vuol dire Che la persona Ha un'autostima Ai piedi Proprio a zero Non ha autostima E che non si fida di te Per niente Perché non si fida Cioè Questa persona È arrivata Addirittura A parte Il testo del DNA Che mi sembra Una cosa allucinante Ma Tutto quanto Mi sembra allucinante Il punto è che Secondo me La persona Con la quale stai Deve essere libera Se non è libera Sta male con te E questo Vi porterà comunque A non stare più insieme Quindi se te la vuoi tenere stretta Quella persona Lasciala il più libera possibile E vedi che Se ti ama Torna da te anche Più forte di prima Secondo me Cioè la libertà È la cosa più bella del mondo Quindi io Guarda tesoro Sono veramente Veramente contenta Che Tu stia ricominciando Ad apprezzarti A vedere i tuoi pregi Mi dispiace tantissimo Per le cose Che hanno detto Addirittura Il genitore di lui Vuol dire Che è proprio la famiglia Che non va Cioè qualcosa in famiglia Che non va Perché come cavolo Ti viene in mente Di dire qualcosa Sull'aspetto fisico Della ragazza Di tuo figlio Cioè ma Ma stiamo scherzando Quindi tesoro Secondo me Stai il più lontano Strane per il bambino Ovviamente Però stai il più lontano Possibile da questa persona Non è la persona giusta Non è un amore giusto Era un amore malato E sta bene Lindo Sta Fidate con tutto il cuore Queste cose Io sono contenta Che comunque tu le hai scritte Non mi prenderebbe matta Perché hai capito La gravità Della situazione Mi raccomando Non avere Un riavvicinamento A queste cose E con la tua prossima relazione Ricordati Di non fare Gli stessi errori Perché Tutto questo Porta solo A qualcosa Di bruttissimo Mi raccomando Mi raccomando Tesoro Forza Non ricaderci E sii forte Soprattutto per il tuo piccolino Tesoro Mi raccomando Scrivetemi Che cosa ne pensate Qua sotto Nei commenti Noi come sempre Tesoro Miei Ci vediamo domani Ore 14 e 30 Sempre qui Sempre su questo canale Vi voglio un mondo Un mondo di bene E voglio leggere Tutti i vostri commenti Qua sotto Mi piace tantissimo Il fatto che ormai Siamo una grandissima famiglia Ci sosteniamo Tutti a vicenda È una cosa stupenda Vi voglio un mondo di bene Love you Link in descrizione Per la mia nuova cover Per telefono